ciao ragazzi sono tornato dopo una piccola pausa e oggi è un cattivo tempo siamo alla vigilia dell'immacolata dell'8 dicembre quindi sigla oggi è un tempaccio veramente assurdo e questa mattina sembrava quasi che volesse nevicare c'era quel cielo quel bianco i gradi erano quasi l'arrivo della neve e io cosa faccio con un tempo così avevo pensato ad andare all'euronics avevo da vedere dei cingini elettronici e poi volevo fare anche un'altra giratina verso la decatron per vedere qualche giubbotto abbastanza termico perché mi sa che quest'anno farà veramente ferramente freddo vabbè vediamo oggi ho anche indossato il top dei top per quanto riguarda i smartwatch Samsung Gear ST Frontier allora sono qui nel piazzale ho finalmente riuscito a trovare posto e adesso mi vado a fare questa tranquilla e beata giratina e vediamo un po di trovare qualcosa molto interessante ci sentiamo a dopo nel frattempo si è fatto quasi buio con le giornate che calano a vista d'occhio ora sono manca 10 minuti alle 4 anche ci sia rimasto di fare anche cose da fare quindi cercavamo una cuffia bluetooth l'avevo quasi trovata però diciamo io voglio un qualcosa che posso utilizzare sia quando ascolto la musica a casa che quando sono al giro andare al giro con quei padelloni nelle orecchie bisogna un po abituarsi ma ora vediamo guardo salto bene la temperatura che si abbassa sempre di più i 4 in punto e il sole se ne è andato è già andata a nanna ragazzi e io ultima tappa devo andare a prendere il liquido per la sigaretta quello non può mancare domani perché visto che è l'immacolata domani sono tutti chiusi qualche negozietto nelle gallerie degli ipermercati qualcosa sarà aperto ma negozi piccoli ci credo veramente poco quindi devi aver paura che toccarmi come disse certo arrivato a questo periodo io penso che già la maggior parte di voi avrà già fissato la sua propria meta per quanto riguarda la serata dell'ultimo dell'anno perché siamo vicini oggi è il 7 domani è l'8 e poi c'è anche chi ci sono vari locali che bisogna prenotare già in questi giorni perché poi se no si rischia di trovare pieno anche per chi va in discoteca oppure ci sono quelle discoteche che fanno anche la cena se non si prenota in tempo si rischia che la cena la facciamo a casa o magari ad altre parti quindi voi dove la passerete con gli amici a casa c'è chi va in montagna c'è chi ha la casa al mare ma c'è anche chi va come me magari in qualche discoteca magari potete anche scrivermelo qui sotto nei commenti dove passerete l'ultimo dell'anno così mi date qualche idea se io tanto non ho ancora deciso niente magari chissà ci potremmo tutti ritrovare insieme ragazzi ho testato anche sotto la doccia il DRS3 Frontier no perché avevo letto vari commenti e poi ho visto tanti di quei video che mi sono fatto la scorpa ciapa tra i tanti ho visto un video che diceva che in pratica quando lui era sotto la doccia gli scherzi della doccia gli andavano a prendere un olocio in pratica gli aprivo widget, applicazione e cose varie a me non mi è successo e sinceramente ho anche attivato la sensibilità quella che si mette quando si usa i quadri non so magari la mia doccia è un pochino più il getto lo butta più piano anche se per dire sono sempre in fase di test e comunque in un momento risponde bene funziona veramente bene secondo me è il top è il top dei top anche se è uscito il modello quello Gear Sport ma a parte quello è più è più studiato per chi fa sport questo fa un po' tutto e sinceramente questo va veramente ma veramente bene questi giorni ho fatto tante di quelle cose ma non potevo avere il tempo per fare video quindi ho detto prima che che le persone si dimenticano facciamo qualche video 16.09 io sono quasi arrivato e quindi ci sentiamo qui e il liquido l'ho preso sto testando due smartwatch e in pratica ogni volta che mi arriva una notifica è tripla perché mi arriva sia sullo smartphone e poi sugli altri due che ho una a destra e una a sinistra modello Galeazzi anche perché voglio vedere anche le attività quando dormo quante ore segna se dal vero qui c'è un problema questo conta chilometri che ogni pochino mi segna stop e io ogni pochino devo staccare la batteria si che poi tutte queste cose che non sono neanche reali però è ora si è messo è di fuori come un terrazzo come si diceva in toscano andiamo andiamo che è verde sta piovendo e neanche poco quindi doppia rottura va beh ragazzi a parte tutto io sono arrivato al termine anche di questo video quindi vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo va bene? ciao ciao ciao